Allora io direi che è assurdo mettere un quadro piccolino ma bellissimo ovviamente attorniato da cotanta grandezza di altri quadri fatti benissimo è laggiù che ci mettono un quadrettino piccolo di grandissimo valore ovviamente della Gioconda ma non è secondo me una cosa giusta perché questo quadro di 70 metri quadri cioè porta via la scena anche se è di grandissimo valore ovviamente la Gioconda di Leonardo da Vinci questa lì non so se la vedete però incredibile ragazzi fatevi i due conti un gioiello prezioso non si butta lì fra 3.000 pepite di valore poi tutti ci vanno alla Gioconda perché lo sanno che vale ma valorizzatela in una sala tutta per la Gioconda se no non ci siamo perché qua ha voglia bellezze grandissime opere no? grandissime opere qua c'è Tiziano per esempio lo riconosco non l'ho visto questo dovrebbe essere Tiziano come cazzo li chiamate? Tiziano si chiama